Mette tutto sto burro qua che mi viene male alla pancia Fermo, fermo, adesso fermati Poi? Poi un attimo si sono anche bruciati E buonasera a tutti ragazzi Bentornati sul nostro canale con un nuovo video Oggi siamo tornati qua con una nuova ricetta americana I crumble cookies! Ed è tantissimo che non torniamo con un video in cucina L'ultima volta era... Tantissimo tempo fa Danny mi ha detto che sono virali sti crumble cookies Quindi facciamo sti crumble cookies Prima di iniziare ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti A voi non costa niente ma noi ci aiutate tantissimo Continuiamo col video Abbiamo qua tutti gli ingredienti La farina, il burro, un uovo, le gocce di cioccolato, lo zucchero, lievito e il sale Poi un cucchiaio, una forchetta, un coltello, una cetolina e la bilancia Bene, iniziamo Ah si, il burro l'abbiamo rubato a mia mamma Lei non lo sa che glielo ha rubato Franci, guarda che ci serve tutto Eh lo so, lo scoprirà Ciao mamma Oi oi Iniziamo subito Iniziamo Stai calmo Zucchero 75 grammi Iniziamo Zucchero 60... Quanto sei fuori? Ops Adesso dobbiamo tagliare il burro 125 grammi Tutto Ah si? Si Ma come? Eh si Ma la metà di 180 non è 125 Lo so Franci Cos'hai fatto? Niente Mette tutto sto burro qua che mi viene in maniera pancia Abbiamo tagliato il burro, adesso lo buttiamo Ragazzi mi raccomando se volete fare anche voi crumble cookies seguite la nostra ricetta E fateci sapere se è come stavere Poi Devi schiacciare Vai tu intanto fai Tutto? Si tutto Guarda Eh no cioè si può mettere anche solo l'albume Si va bene va bene va bene Tutto Il tuorlo Opa la Bravo Poi? Poi un attimo Vai devi schiacciarlo bene bene Senza grumi deve essere Agrumi? Ma non li abbiamo messi Senza i grumi Fermo 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 Adesso fermati Fermati Raga questa andrebbe setacciata ma Piano 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 Si si Andrà a mescolare un po' con le mani raga Ma che è una bella palla Bisogna giocare a calcio Adoro Mettile non tutte però quasi Si ma Ehi fermo che bisogna Mescolare C'è Di cosa vai? Spermi lavo le mani Dammi il coltello Qualcosa Si vuoi mangiarlo così? Fanne uno bello grande qua Dopo? No Uno grande voglio Questo qua è quello grande Sì no non troppo Che si scioglie Cosa si scioglie? Ma cosa stai facendo? Si ho capito No è troppo Non si Non si No no Questo è il mio biscotto No Ascoltami No Non si Ma io volevo il biscotto grande Ma tu se ne frega Tu vuoi Tu vuoi un l'erba voglia Non esiste manco nel giardino Ma che pezze sono? Stai zitto Mi hanno fatto un po' troppi Mi sa Erano 4 Sono infatti 10 In forno Adesso è l'ora che lo mettiamo in forno A 180 gradi Ventilato Mi raccomando Eh ma non c'è vento Forno ventilato Va bene? Si sono anche bruciati Eccoci qua ragazzi Con questi due crumble cookies Il mio è quello grande Il tuo è piccolo Mangiamoli Sono buonissimi Senti che buoni Voto 8 e mezzo Prima volta che abbiamo fatto i biscotti E sono venuti Come stipidi Intanto Sono buonissimi E anche buoni 8 e mezzo anche per me Se volete un altro video in cucina Scrivetecelo qui sotto nei commenti Se non l'avete ancora fatto Lasciate un like Iscrivetevi al canale E attivate la campanella E noi ci vediamo Un prossimo video Ciao ciao Ciao